Lasciando quest'ossa lì che è nulla, perché c'è stata l'opportunità, l'ho avuta fa, tanto che cambia un po'. Niente, parliamo della partita. Allora, io so già probabilmente che se non il 100%, il 99% di voi, mi la tessi veramente un cretino. E io direi, effettivamente, forse è vero, però io la vedo sì. Allora, cosa vuole dire? Il risultato direi che è calmosamente ampio, forse anche troppo, e fra l'altro, cioè, almeno se il buono non era su storie, non si chiama su vai, si chiama su storie. Non so se l'hanno fatto un 100% o perlomeno no, se si ampia, non lo so, non mi sono informato, anche perché comunque non si fa nel momento di guardare. Se il caso vuoi, guarderò e se trova qualcosa, lo schiacco qui sotto nella descrizione. Comunque, allora, il Livorno ieri non ha giocato male, no? E se non faccio un tipistico qui, diciamo che ha fatto la sua buona, discreta partita. Però, c'è un però. Secondo me, e ripeto, lo voglio specificare, il Livorno ha giocato bene, però non ha giocato ottimamente bene, se si può dire. Perché? Perché, come la vedo io, alla fine secondo me si potrebbe vincere, perché comunque nel complesso, come ho già detto svegliate volte prima, li vanno giocato bene, quindi la potevi vincere la partita, cioè i giocatori non hanno sbagliato quasi niente, anzi, forse niente. Però, secondo me, soprattutto il risultato che si ha appestato il Trapani, il Trapani che con tutto il rispetto, perlomeno, nella partita di quella lì con il Livorno, quella lì che c'è stata, l'ultima, questa bella, ha giocato veramente, veramente male, sia va bene in 11, che quando poi, dopo, dopo il rigore, quindi, dopo quanto, ha un terzo della partita, ma nemmeno, ha giocato in 10. E cosa voglio dire con questo? E lo ripeto ancora una volta. Lì vogliono dire che se no, se il Trapani ha giocato male, perdeva o pareggiava, cioè se non è vincere uguale. Però, se non è la gente sbaglia, di bozio a zero, viste come ha giocato bene, 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 bene. Sì, però, cioè, il risultato, tante volte, non rispecchia quello che si vede in campo. Quello, come non lo sapevo, dico, come volta, io sono soddisfatto, comunque, della vittoria. Sono molto soddisfatto, sono molto contento, l'avevi visto il Livorno, in vita mia, vince così tanto. E con questa facilità, fra l'altro, di chi l'ha detto, il Livorno ha fatto, cioè, tipo, l'ultimo gol ha fatti camminando, eh? Diamo, sì. E niente, della partita, cioè, da dire ben poco, perché penso che la squadra di stavolta, il voto medio va sul 6 e mezzo, 7, perché penso che nessuno ha sbagliato qualcosa, forse l'unico che prende un po' di meno va a Mazzoni, perché Musadì è stato spettatore non pagante, ecco, perché non ha fatto niente, cioè, nemmeno qualche intervento, quindi. E, neanche, sono contento, poi, perché comunque questa vittoria ci porta a vertici, se è un error, se è ondo, forse è il terzo posto, non lo so, verrà, perché qui tutte le volte sei di B, cioè, tipo, una volta fai, sei a 8 punti, sei a noi, e altri, vanno altri 7 squadre. Insomma, diciamo che comunque, sei di B, sei a, e anche se sono passati, cioè, il campionato è iniziato da un bel po' di giornate, e siamo tutti appicciati. Ehm, no, dai, comunque, parliamo un po' della parete, perché, per quel po' si può dire. Ehm, iniziamo subito con Livorno, che, eh, ha, diciamo, sfruttato, appunto, le disattenzioni del trapani, e concretizzando le occasioni create. Infatti, fra l'altro, non sa che ci vanno a giù di B, va, la prestazione, eh, non voglio un attino, scusate se faccio asino, però, poi, un attimo, insomma, su, io ho sentito in campo, come trovato all'Amazzoni, che comunque, secondo me, il Melli e il Campionato è stato vantaggiato. Il vantaggiato mi sto sempre più convincendo, anche se io quando parlo, ma è il numero di 5 video, però quando parlo con la gente, di come è, di voi, di qua, io non sto sempre più dicendo, mi sto sempre convincendo, che il vantaggiato è un giottore straforti, straforti per la serie B e per il Livorno, e non tanto per i cocafattori, ma basta vedere qui. Queste qui, nonostante la sua altezza, che non è bassa, non è nemmeno alto, mi testa, sono quasi tutti su. Poi, fisicamente, oltre a me, non lo so se c'è un po' di pulso, però, vabbè, c'è Ciccina, però è ticcio e anche lì, il 90% delle volte, protegge Paua, e è sempre il suo edificio che faccia anche anticipa fra l'altro. Poi, sottoporta, almeno metà delle volte, concretizza quello che crea, tecnicamente c'è, basta vedere che Go ha fatto ieri, l'ultimo che ha fatto, il secondo, il secondo suo, non della partita. Che ha fatto tunnel, e poi è l'angolata, Go, insomma, è vantaggiato veramente un giottore che non ci fa stracomodo, e deve essere tuttavia rifisso. Fisso, come fra l'altro, questa partita B, si è rivisto, l'avevo già rivisto nella partita precedente, però, soprattutto, questa lì, e non tanto per i comandamenti, la prestazione di TPC, con ce l'hai vedi a po' ce l'hai guardi, sono abbastanza contento, eh. Tra l'altro, vengono abbatto anche di chi c'ho muso quella sorta di, io poi di te sei cretino, di pezzonità, e lo te sei così, quando da nulla, ma avversa la fine era cento, ma quella della parte attirata, fa bene, piccionaio, però se comunque ti fa piacere di chi uno, c'ho apprezzonità su queste cibi, quindi, vabbè. No, so, ecco, in una pecca, mettiamo la aussie della partita che mi ha dato noia, e anche se ci fate caso, cioè, ve lo dico, è proprio andata la Gio, perché vince i devaini, tipo la SNAI, la SNAI, però, chi c'è questa sidera? In realtà, se lo so, perché non me ne intendo molto, però, la Gio ha almeno due o tre gialle a partita di Livorno, se fosse magari a volte anche il rosso, cattolò, prende un cartellino, prende sempre un cartellino, ma fate cazzo a perché ha preso, cioè, tipo tre cartellini, a cazzo, i pari, i piaggianti, i pari, Diokovic, e Cecherini, non sono in ordine di tempo, però, cioè, cazzo, vinci 6, 5 a 0, ma perché devi far così, devi rischiare, per le stagioni di, del cazzo, no? Che ne sta una perca di video? Poi, tornando a, le vostre positive, c'è stato dentro il campo di Luce, poi la sua una volta, c'è stato dietro, Luce ha risuato, questa volta lì, vantare un quarto d'ora, sì, poi non di più, forse, eh, niente, vediamo un po' di operare, perché fa comodo, e no, e dai, è sottosommato, è sottosommato, sono molto soddisfatto, soddisfatto la partita, nel risultato soprattutto, ma, la luce contrarà bene, se dovrà riprendere i tre punti, meno male, perché comunque, il Drapani, ripeto, vi auguro per loro, che, che magari si è stata ragionata no, perché io, io, anzi, di valutare la verità, mi sono un po' appinato, di valutare la verità, io quando si diceva, le vole trappani, ho detto, no, speriamo bene, perché non lasciano mai un coso, un attacco, che non fa, il fenomeno, diciamo, che così comunque, non è stata una prestazione, diciamo, che sono opposti, comunque, a nostra parte, sta lasciando sta quello che ho sentito lì, perché non l'ho visto, sinceramente, i discorsi, di così, trappani a fine partita, io volevo fare, sembra una stronzata, però no, le congratulazioni, però, ero sempre apprezzato, il fatto di dire, loro sono venuti dalla Sicilia, per vedere la loro squadra, fino a qua in Toscana, già quella, erano tanti, per essere B, per essere Trapani, erano tanti, e poi, no, se mi ha fatto piacere, è il bello del calcio, è che, nonostante tutto, anche se ti possa essere il calcio, che ti generano con gli orvi, che la tua squadra, ti venivano aggiunti, ti fan culosi, spendi non so quanti soldi, venivi alla tua squadra, perdite, condiasi tanto, non si è fatta piacere, vedere comunque, che i tifosi, vedete poi, i conti, chi spicchiavano, magari il momento, ce l'abbé in quello, non appunto, nonostante, per il Trapani, vedessi tanto, vedete, vedi che comunque, i canticchiavoli, saltavano, allora, se comunque, ho apprezzato tanto, e quindi, vorrei fare, i miei complimenti, lasciando, ve lo successo, fine partita, che tipo, come li hanno tirati, li vedi, vanno incazzati, e poi, anche giustamente, perché, se è zero, è un po' troppo, comunque, niente, guarda, speriamo questa parte, che sia di buona specie, per le prossime, niente, dai, sono fiducioso, sono fiducioso, perché il livello, è una scelta, è una piazza, compattandolo, comunque, da me, ancora, ancora di più, perché si l'ha fatto abbastanza, vedere, comunque, inizia tutto quello che crea, è un po' troppo, inizia tutto quello che crea, di un po' troppo, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.